Ehi ragazzi, ciao! Come state? Benvenuti a Gioca con me! Oggi c'è un nuovo Baby Panda e... Lo sapete che Baby Panda è di Baby Pass? Lo conosciamo ovviamente, per essere Baby Panda E oggi guardiamo Baby Panda's Carnevale! Guardate, è il parco divertimento dei Panda! Così, più carini! Ok, allora, camminiamo un po'. Oh, sì! Non c'è una macchinata per pescare peluche? Ci sono davvero tanti giochi diversi? Oh, sì, sì, sì! Eccolo qui! Allora... Mettiamo i soldi... Tutti? Ok! No, non è quello che volevo io! Oh, vabbè, ormai giochiamo! Uno... Oh... No, sì! Accidenti! Ah, era un esercizio! Ok, bene! Oh, ma è difficilissimo! Valle infinite! Wow! Oh, dai, 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 che non posso fare! Nooo! Sì, ultimo! Un'è, dai, 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 dai... ma lì sotto sono più difficili da prendere oh e ora? oh metà il tempo ora vorrei fare anche qualcos'altro aspettiamo dai vediamo che finisca il tempo questo è abbastanza carino come gioco un, due, tre, sto per scadere e tra poco si va al prossimo gioco ok finito abbiamo vinto 23 monete niente male possiamo usarle per qualche altro gioco ok dove vogliamo andare? volevo andare nella macchinetta ecco devo andare proprio qui ok inseriamo le monetine ecco e vogliamo si uno scivio esattamente allora spessiamo e poi spessiamo oh presa 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 oh se fosse sempre così semplice nella realtà non funziona vabbè proviamo dobbiamo prenderne quattro oh no oh si due no vedete dai per un pelo per un pelo no accidentaccio ancora ancora adesso la prendo la prendiamo con la testa per la testa e ce la faccio la faccio oh si e siamo a tre se quattro ora ce ne manca ancora una eccola la nostra scimmietta andiamo e la prendiamo anche lei per la testa e funziona e funziona oh oh l'orecchio oh oh si ce l'abbiamo fatto grazie grazie 16 monete molto bene molto bene ok cosa possiamo fare ora oh si fui con l'acqua dovremmo seguire qualche anatra o qualcosa del genere vediamo ah si sparare ok inseriamo come sempre le monete oh no con l'acqua qua ok dobbiamo sforzarle quindi ah dobbiamo farle passare sotto ma lei non va si qui c'è una ma che ti mette qua ok vediamola qua dopo lì o qui tutto qua vedo no non mi diverso molto questo gioco poi ce l'ho Allora, proviamo questo con i pesci. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, dobbiamo pescare i pesci? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Bravo pesciolino. Bene, mentre io finisco di giocare, scrivete per favore nei commenti cosa ne pensate di questa applicazione, se vi piace, cosa ne pensate. Sì finito Scrivetelo nei commenti Mettete mi piace se vi piace il video Abbonatevi al nostro canale Non prendetevi nessun video Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi